Dal libro della Sapienza Il giusto, anche se muore prematuramente, proverà riposto. Vecchiaia veneranda non è la longevità, né si calcola dal numero degli anni, ma la ganizie per gli uomini sta nella sapienza e un'età semile è una vita senza macchia. Divenuto caro a Dio, fu amato da Lui e poiché viveva fra peccatori, fu trasferito, pura vita, perché la malizia non ne mutasse i sentimenti o l'inganno non ne traghiasse l'animo, poiché il fascino del vizio deturba anche il bene e il turbine della passione travolge una mente semplice. Giunto in breve alla perfezione, ha compiuto una lunga carriera. La sua anima fu gradita al Signore, perciò egli lo tolse in fretta da un ambiente malvagio. I popoli vedono senza comprendere, non riflettono nella mente a questo fatto che la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti e la protezione per i suoi santi. Il giusto defunto condanna gli impi ancora in vita. Una giovinezza, giunta in breve alla perfezione, condanna la lunga vecchiaia dell'ingiusto. Le folle vedranno la fine del saggio, ma non capiranno ciò che Dio ha deciso a suo riguardo, né in vista di che cosa il Signore l'ha posto al sicuro. Vedranno e disprezzeranno, ma il Signore i deriderà. Infine diventeranno un cadavere streggevole, oggetto di schermo fra i molti per sempre. Dio, infatti, li precipiterà muti a capofitto e li schianterà dalle fondamenta. Saranno del tutto rovinati, si troveranno tra dolori e il loro ricordo ferirà. Si presenteranno tremanti a rendiconto del loro peccato. Le loro iniquità si alzeranno oltre odiesi per accusarli. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e bellissimo sacramento. I pensieri del Cielo sono diversi dai nostri e il titolo di questa ora santa, di questa meditazione, sulla base di questo splendido brano che a me personalmente non può non far volgere in cuore alla mente alla morte prematura di una persona a me tanto cara. Questa lettura, tra l'altro, fu letta durante la celebrazione delle sue segre, una vicenda che ha appunto segnato profondamente la mia esistenza, dandole una svolta inaspettata. Ricordo bene quelle circostanze, veramente proprio come alcune parole che abbiamo aspettato, appaiono vive. Coloro che non capivano che cosa Dio aveva deciso a suo riguardo, né in vista di che cosa il Signore aveva posto al sicuro. Coloro che non pensavano che forse è il caso di rapire un animo buono, un cuore buono, perché la malizia non è muta i sentimenti o l'ingannano i travi rari, perché purtroppo inizio ha il suo fascino e l'inganno può traverci tanto come il turmine della passione. Quante anime veramente buone, belle, purtroppo, questi due giorni, perscrutabili, i segni di Dio, ecco, rimasti nel mondo, cosa che sembrerebbe apparentemente una benedizione, ne hanno poi dovuto piangere, perché, pur essendo buoni, anime davvero belle, sono state travolte, dal mare di male e di fango che ci circonda, non hanno avuto la forza, la grazia, a volte nemmeno la capacità per tante ferite accumulate di resistere al vortice del mare. Sono quelle poche anime che possono davvero comprendere la salienza divina. Un'età sedile non è arrivare a 80, 90 o 100 anni. Agli occhi di Dio, un anime che vive a tre giorni nel grebo della madre, vent'anni sulla terra o novant'anni, non c'è nessuna differenza, non vuole nessuno. La differenza la fanno i meriti e le virtù, quindi non la longevità, ma la sapienza e la purezza è una vita senza macchia. L'anima di un bambino battezzato che, secondo gli occhi di noi umani, disgraziatamente, muore a uno o due anni, si trova senza dubbio in cielo, in uno stato di gloria superiore anche di grandissimi santi, appunto per la purezza e l'incontaminazione. Il nostro grande problema è che purtroppo molte volte non sappiamo distogliere lo sguardo dalla terra, non sappiamo guardare al di là del nostro naso, non sappiamo soprattutto vogliere gli occhi al cielo, non sappiamo pensare alla vita dell'uomo nella sua totalità, la nostra vita non è limitata alla sfera tervena e non possiamo, non dobbiamo iniziare dalla nostra vita in questo modo, specialmente noi che ci diciamo che siamo perché battezzati, discepoli di Gesù. La sapienza, questa grande virtù intellettuale, è la prima delle virtù intellettuali ed è anche il primo e non è lo Spirito Santo, consiste proprio nella capacità soprannaturale di vedere, leggere, conoscere e comprendere le cose e dovrebbe essere proprio la caratteristica di noi figli di Dio, quando Gesù dice voi siete il sale della terra nel Vangelo, tutti gli interpreti dicono che appunto essere sale della terra vuol dire la sapienza, sapienza etimologicamente deriva dal latino sapida scienzia, cioè scienza sapida significa che c'è sopra il sale, d'accordo? e noi sappiamo che il sale per me in particolare penso per tutti insomma la sostanza fondamentale di tutti gli alimenti non può essere il più grande luogo di questo mondo ma se non dosa bene il sale le pietanze non sono buone ecco così un uomo privato della sapienza non ha nulla ma che ci avesse una montagna di virtù una montagna di doti perché non capisce non è in grado di giudicare sovranaturalmente le cose di vederle in maniera sovranaturale e per cui è quella proprio quella povera vita ristretta piccina piccola di cose piccole di giudizi piccoli di chiacchiere piccole di cose piccole distrutti come dice Gesù come dice nel testo della riparata sodienza vedono e disprezzano questo è morto così giovane poveraccio che disgraziato questa che disgrazia che ci ha avuto ma il testo ci dice che il Signore li deliterà ci sono parole anche molto volte diventeranno un cadavere spregevole oggetto di schermo fra i morti per sempre Dio le schiamperà dalle fondamenta dentro saranno tutto rovinati si troveranno fra dolori e il loro ricordo perirà si presentiranno davanti e rendi conto dei loro peccati e le loro liquidate si alzeranno contro di essi per accusare nella Sacra Scrittura appare il fatto che il non avere la sodienza quindi comportarsi da stolti è colpa non è un atteggiamento spesso e volentieri da compatire ma da condannare perché lo stonto non è il poveretto che per ignoranza non comprende non capisce le altre cose no è il superbo o l'ipoprita peggio la seconda della prima ancora che non vuole ricevere la sapienza che non vuole comprendere che si appoggia sui suoi giudizi essi umani di cui nulla c'è di più fallace noi siamo gli uomini del ventunesimo secolo cioè le conoscenze scientifiche ci hanno sbattuto davanti agli occhi in tutti i modi possibili che i sensi si ingannano d'accordo che l'apparenza inganna noi lo sappiamo non è che ci vuole un filosofo per spiegarcelo noi ne abbiamo l'evidenza in una montagna come se no basti pensare ecco signora mi perdoni se faccio questo esempio un po' scientifico al suo cospetto d'altronde le leggi del moto che ha deciso lui tutti noi adesso pensiamo di stare fermi no? giusto? stiamo fermi no? siamo immobili stiamo inginocchiati stiamo davanti al Signore stiamo nella guida nel riposo ma non è così noi stiamo viaggiando a doppia velocità adesso stiamo a 1600 km di orari con cui la Terra gira intorno a se stesso cioè due volte la velocità di un aereo e a 108.000 km di orari con cui la Terra sta tirando intorno al Sol cioè se potessimo andare su una macchina a 108.000 km di orari penso che sarebbe parliamo disintegrati ne parliamo no? eppure ci sembra di stare fermi ora le cose che io ho detto basta che si apre wikipedia e si va a controllare basta che si vada con qualunque studentello insomma delle scuole superiori che oggi ne sa sono misuranti d'accordo? noi accendiamo la lampadina di casa ci sembra che la lampadina di casa è tanto carina e tanto bella non così come accendiamo una candela e basta che contiamo fino a uno con una luce che si è messa in moto ha fatto cinque volte in giro della Terra perché viaggia 300.000 km al secondo quindi questo anche la scienza che non è la sapienza ma dovrebbe essere un aiuto per chi la usa bene dovrebbe aiutare l'uomo a farsi un pochino vincolo non a inorgogliersi per queste quattro cose che sa e soprattutto a riflettere che dinanzi a Dio sono molte di più le cose che non sappiamo di quelle che sappiamo sono molto di più le cose che non comprendiamo per cui il sapiente generalmente è una persona mica del silenzio è una persona che ha imparato a tenere la bocca chiusa ecco tornando al Vangelo della Messa di questa sera il sapiente si nel Vangelo di oggi apre la bocca per dire a Gesù tu sei il Cristo tu sei il mio Dio ecco ma poi la chiude non si permette di rimpoverare il Signore nelle cose che dice anche se non le capisce anche se gli sembrano assurde anche se gli sembrano sconvenienti io faccio sempre l'avvocato del povero pietro insomma perché chiunque al posto di San Pietro avrebbe reagito in quel modo Gesù che prospetta alla croce dice ma che stiamo scherzando Signore e tu vuoi andare in croce ma non esiste ci vado io ma non ci vai però Gesù rimprovera ma tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini la sapienza è pensare secondo Dio la stoltezza è pensare secondo gli uomini ecco questa lezione sulla morte prematura del giusto che è una benedizione secondo il nuovo testamento non è una maledizione non è una disgrazia è una grazia spesso e volentieri ecco ci aiuti a a dilatare il cuore noi dinanzi a Dio dobbiamo sentirci tutti quanti tanto piccoli e più ci avviciniamo a Dio più piccoli dovremmo sentirci e se non ci sentiamo tali vuol dire che non ci stiamo avvicinando a Dio ci stiamo avvicinando a qualcun altro o a qualcos'altro o a qualche idea che abbiamo di Dio ma non è ricordiamo sempre che la più grande creatura che esiste dopo Dio e che nessuno può raggiungere neanche tutti gli angeli e i santi messi insieme è Maria Santissima ma Maria Santissima è così grande perché ha guardato l'umiltà della sua serva perché pur essendo la numero uno lei si sentiva la più piccola di tutti pur essendo la sede della sapienza lei ha trascorso una vita in ascolto e in conoscenza continua in ricerca continua fino ad aggiungere dei vertici insomma di sapienza che non immaginabili che ne fanno la sede sia Maria Santissima con la nostra guida per poter percorrere il cammino che ci porti ad una vera sapienza perché chi ha la sapienza è felice anche in questo mondo chi la sapienza non c'era anche se in questo mondo ha tutto è come se non avessi nulla è certamente felice non è ci ero dato adorato e ringraziato ogni momento per l'Antesimo e bambini se non saldano Grazie.